In tante occasioni abbiamo affidato a Luigino Bruni una riflessione in profondità su quello che stavamo vivendo, l'abbiamo fatto più volte per esempio durante il Covid. Ci ritroviamo ad una analisi di un presente inedito, inatteso, che avevamo sperato potesse mai più ripresentarsi e invece siamo qui con questi venti di guerra che si soffiano addosso. E allora Luigino, prima di entrare nelle tue competenze di economista, di appassionato della Bibbia, come uomo come ti senti addosso questa situazione che ci è piombata in maniera piuttosto repentina nelle ultime settimane. Beh, innanzitutto sono anch'io molto turbato, molto amareggiato, molto proprio intristito da quanto accade. Poi come tanti di noi ho amici che vivono sia in Russia che in Ucraina alcuni dei giovani di economia francesco, questa realtà dei giovani economisti di cui mi occupo sono di questi paesi. Proprio vivo con grande angoscia tutto quello che sta accadendo e cerco di, come tutti voi, di capire che cosa sta succedendo nel mondo e chiaramente capire anche un po' storicamente come siamo riusciti a trascurare questo pericolo russo, diciamo, di Putin a non capire che anche alcune mosse che la Nato ha fatto, a parte per me stesso fatto che esista la Nato dopo 70 anni a seconda guerra mondiale, che si parla ancora di alleati, mi sembra davvero una cosa di totalmente anacronista, anonistico. Sì, va bene, ci sarà sempre qualche cosa di militare, ma che ancora noi dobbiamo ragionare in termini di... non ora, lo abbiamo fatto durante la guerra fredda, lo abbiamo fatto fino all'altro ieri di ragionare in questi temi, abbiamo fatto anche degli errori proprio di prudenza, cioè non conviene mai esasperare dei paesi che hanno un grande passato, di impero, che hanno anche un orgoglio ferito da una storia recente molto triste dopo secoli di grande prestigio, di grande forza, perché se poi metti queste persone che sono già pericolose alla corda, rischi che reagiscono come stanno reagendo. Quindi abbiamo fatto tutti degli errori. poi vedere che i peccati si pagano tutti, cioè questa, come si dice, no? Cioè queste guerre mondiali del Novecento, due, i nazismi, i fascismi, i gulag, aver costruito una guerra fredda con armamenti nucleari assurdi. Questo mondo di maschi che combattono, cioè che vedono la guerra, la lotta come la condizione normale per risolvere i rapporti tra paesi. Cioè tutte queste cose che abbiamo fatto in passato, la cattivere, i milioni di morti. Noi pensavamo che bastasse dimenticasse, erano sempre là, erano sempre vivi, erano sempre nella nostra memoria, nel nostro DNA, nel nostro sangue. Ed è bastato niente, cioè due anni di Covid, di crisi mondiale di nuovo, dove abbiamo, pensavamo, erano tutti concentrati su questo virus perché ritornassero fuori i fantasmi che tutti pensavamo appartenessero a un passato che non doveva e non dovrà tornare più. Poi questo tema del maschile, a me fa molto effetto. Io ho una grandissima stima delle donne, in generale, ma io non mi chiedo a volte come fanno a non fuggire tutti in un altro pianeta davanti a questi spettacoli tutti al maschile, cioè di violenza, di risoluzione sempre aggressiva. Infatti quando faccio dei post pacifisti su internet, su Facebook, dove dico la mia idea su questa guerra, in generale è sempre dalla parte opposta a quella delle armi, della violenza. In generale vedo che i maschi tendono sempre a dire no, bisogna difendersi, bisogna combattere. E le donne tendono a dire ma sì, intanto fermiamo perché hanno più la prospettiva della vita, la prospettiva della pace, la prospettiva dei figli, la prospettiva dei mariti. Non ci dimentichiamo che quando fu approvato l'articolo 11 della Costituzione italiana, quelle poche donne che erano tra le madri costituenti dell'Assemblea scesero tutte al centro dell'aula parlamentare, si pesero tutte per mano per dire sì, la guerra la fanno i maschi, ma tanto dolore poi diventa dolore delle donne. Lo vediamo in questi giorni che siamo tornati dopo 80 anni di movimento femminista, dopo battaglie infinite per ritrovare un'uguaglianza uomo-donna così difficile anche in Europa. Oggi rivediamo le scene delle nostre nonne, i mariti che combattono e le mogli che vanno via con i bambini. Cioè la donna che torna a fare un ruolo totalmente privato in una scena pubblica occupata interamente dalla violenza e dalle guerre dei maschi. C'è un problema di genere molto forte tutto questo, cioè che non ci faceva particolarmente effetto 80 anni fa, ma dopo tutta questa fatica che le donne hanno fatto per rivendicare un ruolo di parità, rivederceli piombati in un mondo con una totale separazione uomini-donne e gli uomini dalla parte sbagliata, fa davvero un enorme effetto, almeno su di me. Come ci si colloca rispetto a una dinamica che ci fa sentire così profondamente impotenti? Qual è secondo te il posto che dobbiamo occupare e magari presidiare oggi? Il posto, nel caso anche della tua esperienza di vita di un cristiano, qual è questa cosa? Innanzitutto il posto è stare sempre dalla parte della pace, ma non la pace astratta, ad esempio non essere dalla parte di chi invia armi all'Ucraina, ma non perché vogliamo che vengano ammazzati, perché sono totalmente schierato dalla parte dell'Ucraina. Per me è molto chiaro che c'è un aggressore, un credito, una vittima, un carnefice, che Putin verrà processato in un tribunale internazionale e verrà condannato all'ergastolo, non ho dubbi su questo e farò di tutto perché ciò avvenga. Ma oggi non si può alimentare una guerra che è una guerra al massacro di giovani, è facile fare i partigiani nel salotto di casa con il sangue degli altri. non possiamo permetterci, quindi innanzitutto un cristiano, un allievo di Gesù, di San Francesco, di Gandhi, non può non stare dalla parte di... appunto, pensiamo a Gandhi, non è che non ci fosse una guerra, un'aggressione in India, e lui come ha risposto? Con la non-violenza e ha liberato l'India. Tu puoi sempre rispondere davanti ad un aggressore non ricambiando con lo stesso linguaggio. Che non significa non riconoscere i valori di uguaglianza, di libertà, soprattutto di dignità, di indipendenza, ma significa che prima c'è la vita per tutte queste cose. Cioè non ci si può dissanguare come popolo e poi non avere più nemmeno le forze di fare una resistenza attiva quando tra qualche mese verranno in ogni caso occupati. Tu devi fare un negoziato e devi far fermare le armi cararmati, i civili, gli ospedali e poi si ragiona, perché non siamo più negli anni 40 dove i paesi erano di fatto isolati. Oggi c'è tutto il mondo con l'Ucraina e tutto il mondo può fermare questa guerra se lo vuole, ma prima deve fermarsi, prima bisogna che si fermi le cararmate. E non è queste cose un po' evocate, ma Putin poi sterminerà la classe dirigente, farà dei massacri, queste sono cose che a parte non sono realistiche, ma sono sicuramente un scenario meno grave di un popolo che si sta autodistruggendo in nome dell'eroismo. Non servono eroi in questo momento, servono persone intelligenti e prudenti che mettono la vita loro e dei loro figli prima dei principi. Poi si ragiona e si libererà al punto di andare a casa da sconfitto, anche se vincere la guerra militare perché il mondo lo ha già sconfitto. Tutto il mondo ha detto, tu non puoi fare questo e non lo farai. E poi non mettiamo di mezzo Dio in questa vicenda. Io a volte sono molto preoccupato e rattristato da uomini di chiesa cattolica, ortodossa che dicono, ma io sono credente, quindi so che Dio interverrà e fermerà questa guerra. Questo vuol dire convolgere Dio nei morti che ci sono già stati. Perché non è intervenuto prima allora? Prima che morissero 56 bambini? Prima, appunto, vediamoci di Ostoieschi, perché muoiono i bambini? Il grande inquisitore. Cioè se tu metti Dio dentro queste vicende, ha ragione il grande inquisitore di Federico Ramasov. Cioè che Dio è dalla parte dei colpevoli, perché se può fermarli, perché non lo fa? Quindi l'uomo di fede dico, lasciamoci. Dio è andato già in croce, i figli di Dio, per tutti noi, per sempre. Più di quello non può fare. Poi siamo noi, esseri umani, che dobbiamo con le nostre forze, con le nostre energie, con la nostra intelligenza, fermare questa atrocità. Ma non convolgiamo Dio alla morte dei bambini. Quindi non pensiamo che sarà Dio a fermare questa guerra, perché se Dio poteva farlo non avrebbe fatto nemmeno iniziare. Quindi la fede richiede un livello un po' più sofisticato anche delle preghiere che possiamo fare. Cioè noi dobbiamo pregare perché pregare pregare l'uomo oggi, più che pregare Dio. Cioè pregare Dio che ci dia la forza a noi di resistere. E poi pregare, implorare gli uomini che tornino uomini e smettono di essere bestie. Questa è la preghiera. Perché vede nella Bibbia, è vero che l'uomo prega Dio, ma soprattutto Dio prega l'uomo. La più grande preghiera della Bibbia è un Dio che prega all'uomo e gli chiede di diventare umano. Ma sto a pensare i salvi. E' l'uomo che chiede che parla con Dio. Ma è Dio che parla con l'uomo e gli dice convertiti, diventa ciò che sei. E oggi è il tempo della preghiera di Dio verso di noi, che non tanto di noi verso Dio. Tu ti definisci un cultore appassionato della Bibbia e probabilmente la Bibbia è anche il luogo nel quale riesce a trovare un po' di sostegno in questi momenti così difficili. C'è un passo che ci vuoi suggerire, una lettura che ci può aiutare e che magari ci può permettere di decodificare un po' meglio quello che stiamo vivendo? Grazie. Io sono molto affascinato in ultimo tempo, io da questo grande profeta che è Ezechiele e dalla sua lettura della guerra. Perché chiaramente lui vive già da giovane con questo compito profetico di annunciare appunto Martin Buber, La fede dei profeti, questo grande autore, questo grande libro. Qui sono i miei amici oggi. Simon Veil, Oppressione e Libertà, Osea, questi grandi testi, ma anche la saggezza antica di Seneca, i dialoghi morali, per dire, insomma, quelli che aveva sotto mano. Ma che cosa faceva, diceva, faceva Geremia? Lui per compito profetico deve annunciare una sconfitta. Quindi pensate a un profeta che comincia a vent'anni, anche prima forse, riceve da Dio un compito che deve annunciare al suo popolo che a un certo punto arriveranno i babilonesi, sconfiggeranno Gerusalemme, distruggeranno il Tempio, porteranno tutti a Babilonia deportati e schiavi. Questa cosa lo fa per 40 anni, questo annuncio, nessuno lo ascolta perché chiaramente i re e i potenti non amano gli annunci di sventura e quindi nessuno lo ascolta, tutti ascoltano i falsi profeti che dicevano ma no, questo è un pessimista, anzi addirittura è un collaborazionista dei babilonesi. Insomma, arrivano poi, arrivano a Bucodonosor, le cose di Geremia, le profezie si verificano tutte e che cosa è, qual è il messaggio di Geremia in quel tempo tremendo, no? Che poi vi dico meglio perché è tremendo, diventa questo. Una storia è finita, cioè l'idea che avevamo di impero, di regno, di Davide, Saromone, di più grande civiltà, quel mondo lì è finito, niente da fare, virgola, ma non è finita la nostra storia perché un piccolo gruppo, un resto fedele tornerà dall'esilio e continuerà la nostra storia. Quindi una storia è finita, ma non è finita la storia. Cioè noi oggi siamo tutti dentro un grande esilio, tutti come Occidente, e dentro la crisi dell'Occidente c'è la crisi del cristianesimo e con esso c'è la crisi delle religioni, delle religioni diciamo grandi che hanno raccontato il mondo in un certo modo e questo racconto, questa narrativa religiosa del mondo ad un certo punto è andata in crisi e non ha funzionato più. Cioè questo è il nostro mondo, cioè un mondo dove vediamo la distruzione del Tempio, siamo deportati in una terra che non, come succedeva agli ebrei, pagana, con altri dei, con processioni spettacolari, gli ebrei umiliati anche nelle processioni dei popoli sconfitti perché tutti portavano in processione il loro Dio e Israele portava in processione un baldacchino vuoto perché allora non potevano fare le statue di Dio, di Yahweh. Quindi neanche nelle processioni potevano apportare qualcosa come gli altri. Umiliati, siamo in un tempo dove non riusciamo più a farci capire che cos'è questo Dio in cui crediamo. La stessa parola Dio è diventata una parola molto complicata. Quindi che cosa ci ripete oggi Geremia? Questa storia è finita, le chiese piene, la Christianitas, le messe, la religione come fatto sociale, culturale, questa roba qui è finita come finì il regno di Davide che durò alla fine parecchio, più di cinque secoli, cioè c'è più. Ma non è finita, non è finita il cristianesimo, non è finita la fede, non è finito Dio. Sarà molto diverso e quindi questo tempo che, anche in fondo, che cosa stiamo a tornare 80 anni indietro? Cioè questa è l'ennesima dimostrazione che l'Occidente è morto, cioè un Occidente che ha prodotto già olocausti e gulag, che non ha imparato che i carri armati e i fucili e le bombe sono l'anti-umanesimo, significa proprio che non abbiamo perso l'anima, ma cosa fa? Non è soltanto Putin, certo lui è tutto l'insieme, perché in fondo la Russia non è fuori dall'Occidente, attenzione, la Russia ha contribuito, tutti i nostri, noi non saremmo qui a parlare a Romena se non avessimo avuto Dostoevsky, se non avessimo avuto l'immensa musica russa, gli scrittori, i più grandi scrittori dell'Ottocento e d'inizio del Novecento sono russi, tra i più grandi, non solo dottoreschi e dottoreschi, ma sono immensi, teologi, pensiamo a Vulchagor, pensiamo a Florensky, quindi non è che la Russia è fuori e noi siamo l'Occidente, ma siamo tutti dentro un'unica realtà. E allora qual è la mia speranza della Bibbia? Che se gli ebrei sono usciti vivi da 70 anni di esilio e hanno potuto ricominciare e hanno raccontato una nuova storia e in quegli anni di esilio hanno scritto libri più belli, oggi sappiamo che tutti i libri biblici sono nati durante l'esilio o subito dopo, quando non c'era più nessun futuro, nessun passato, hanno saputo raccontare un passato stupendo, i libri della Genesi, i libri dell'Esodo, forse il cantico dei cantici, Giobbe. Allora anche noi possiamo, dobbiamo dai credenti dire bene, uscirà un'altra idea di Dio da questa, come fu nell'esilio. Gli ebrei impararono che Dio poteva essere vero anche se è un Dio sconfitto, che non è legato il successo alla verità, si può essere sconfitti e rimanere veri. E impararono che Dio non è legato al Tempio, quindi si può pregare Dio anche senza Tempio, senza liturgia, senza culto. E qui mi viene in mente Bonhoeffer, citato a sproposito in questo periodo, come uno che decise di uccidere con le armi Hitler, come se la sua esperienza potesse essere equiparata alla nostra. Bonhoeffer è un gigante che non va manipolato dai mercanti di armi di oggi. Guai, nessuno tocchi, nessuno tocchi. Comunque Bonhoeffer, in quegli ultimi mesi di vita, alla carcere dove fu impiccato dai nazisti, scriveva quelle pagine, quelle lettere stupende a Maria, dove diceva appunto, se la religione è stato il rivestimento che il cristianesimo ha avuto finora, ma un rivestimento, possiamo immaginare anche un cristianesimo non religioso e che quindi Cristo possa essere il Signore anche dei non religiosi. è una cosa stupenda, è ancora che mi vengono i brividi. E quindi in nostro tempo dobbiamo uscire da questo esilio, da questo disumanesimo, da questa deportazione, da questa guerra, dobbiamo uscire più sapienti, più profetici, più piccoli, più umili, più umiliati e da lì ripartire per una storia nuova da raccontare. Saremo di meno, saremo feriti, massacrati, ma non distrutti, ma non per una nuova, perché se noi non ci inventiamo una narrativa nuova della religione, di Dio, fra vent'anni, trent'anni non rimarrà praticamente niente della grande eredità del cristianesimo, perché si capisce che quel mondo lì è finito, ma non è finito il mondo religioso, ma di essere bravi almeno come gli ebrei, come quegli scrivi che hanno saputo raccontare qualcosa di stupendo durante la notte più buia. Lucino, in questo periodo si riscrive anche la storia dell'economia, perché l'economia diventa un'arma di guerra accanto ai fucili, ai missili e alle bombe. Un'economia globalizzata alle prese con un conflitto su scala locale, ma di dimensioni notevoli. Ecco che qual è l'insegnamento che arriva da quello che sta succedendo a seguito delle sanzioni e di queste dinamiche che sono in corso rispetto alla Russia, rispetto ai paesi che sono coinvolti in questo conflitto. Ma è un messaggio ambivalente anche qui, perché da un certo punto di vista è innegabile che questa è la prima guerra dove la globalizzazione gioca un ruolo fondamentale. Cioè il fatto che la Russia negli ultimi 30 anni si sia legata commercialmente a tutto il mondo, che non so quante centinaia di McDonald's ci sono ancora in giro per la prima Russia, quanta finanza internazionale è legata ai russi, eccetera, perché l'isolamento commerciale diventi veramente potente come mezzo per tentare di convincere Putin a tornarsene a casa. Quindi da un certo punto di vista ti fa vedere che veramente il mondo lo comanda l'economia, molto più della politica, che veramente siamo entrati in un mondo dove sono i mercanti che governano e non più i capitali del popolo. Ma dall'altra parte però, questo io come economista non posso non dirlo, anche se è un po' scomodo dirlo, ho avuto critiche potenti da questo punto di vista, ma non fa niente, che l'economia non è fatta per essere utilizzata come arma alle guerre. Tutta la storia umana conosce anche questo uso dell'economia come strumento dei re per combattere, certo, mercantilismi sono sempre stati tanti, ma l'economia, ma nel mondo conosce un'altra storia, che durante le guerre dai porti dai quali partivano le navi da guerra arrivavano le navi dei mercanti da quegli stessi paesi che erano in guerra. L'economia è stata sempre un controcanto e una contro, una controtendenza dei flussi militari, perché i mercanti amano gli scambi e amano la pace, perché tutti sanno che l'economia è fatta per farli incontrare i popoli, c'è tutta un'enorme letteratura su questo da sempre, fin dal Medioevo, cioè che l'economia, come i pari della Chiesa stessi dicevano che Dio ha fatto il mondo disuguale con risorse diverse, ad alcuni ha dato il clima a buolo per il grano, ad altri ha dato delle materie prime, perché potessimo scambiare con il commercio e vivere la fraternità. Quindi l'economia ha questa vocazione di far vivere i popoli, non di affamarli, di far incontrare i popoli, non di usare il commercio per combattere. Poi si può anche usare la medicina per l'autanasia, si può anche usare un ingegnere per distruggere un ponte, ma sappiamo che facciamo cose contro natura, si può fare tutto come emergenza, però non ci dimentichiamo durante l'emergenza la vocazione profonda dell'economia del commercio. Secondo, tutti sappiamo che le sanzioni hanno due effetti, uno rafforzano il consenso interno dei dittatori, perché la gente che soffre dice vedi tutti siano con noi, tutto il mondo è cattivo, quindi viva Putin, è stato così sempre, nessun dittatore è stato fatto fuori con le sanzioni economiche, perché la gente soffre, tutti i paesi slavi sono molto capaci di soffrire cose inerrabili rispetto a noi, che non siamo nemmeno capaci di rinunciare a un grado di temperatura del gas, però nel frattempo paghiamo il gas ai russi e diamo le armi agli ucraini, questo è proprio l'atteggiamento diciamo proprio di un abbondio, insomma, cioè di popoli totalmente incapaci di una coerenza fino in fondo. Comunque, è il secondo effetto delle sanzioni di sempre che affamano i poveri, non i ricchi, perché chi oggi, mi diceva una mia amica che abita a Mosca, non ci sono più, i Bancomat non danno più né euro né dollari, danno soltanto la moneta cinese, quindi lei diceva, sarebbero comprati dalla Cina, questo non è uno scenario di cui non si parla, ma chi fa economia lo sa bene questo, cioè che il vero rischio di distruggere la Russia che venga liquidata a quattro soldi è comprata dalla Cina, che è il paese che chiaramente è rimasto vicino, neutrale, ma insomma sostiene. Quindi chi soffre sono i poveri, che tra poco non avranno più nemmeno il pane, non avranno i beni essenziali, non è che sono gli oligarchi che gli affari, perché gli togli qualche yacht e qualche fondo in Svizzera, perché ne hanno mille dei paradisi fiscali e ne hanno mille in patria. Quindi questo. Poi facciamo, forse oggi è l'unico mezzo che si può usare, che è certamente migliore dei carri armati, ma non ci dimentichiamo che stiamo usando l'economia come arma impropria, è fuoco amico, non è fatta per questo, l'economia è fatta per far vivere, è un mio libro che è appena uscito, si intitola L'economia che fa vivere, non l'economia che viene usata come arma di guerra. Nelle analisi che facevamo durante i mesi del lockdown, che sembrano molto lontani, ma in fondo sono dietro l'angolo, ricordo che tu sottolineavi il vuoto relazionale, che questo vuoto in qualche modo potesse essere così istruttivo da farci comprendere il valore degli incontri. rispetto a queste dinamiche di guerra, rispetto anche a questo incubo nucleare che sentiamo addosso e al timore di tutto quello che potrà ancora avvenire, quale può essere la lezione profonda che può invitare l'umanità a fare un passo in avanti rispetto appunto a questa atrocia che ci circonda. Innanzitutto appena termina questa crisi, questa cosa, dobbiamo immediatamente far di tutto per distruggere le armi nucleari, per renderle come si fanno le altre persone per bene, cioè tu quando fai pace dopo un grosso conflitto pericoloso elimini le stesse possibilità di farti del male in futuro, perché dobbiamo tenere queste a parte i costi, tenere attivi Occidente, Russia e altri paesi le testate nucleari, a che cosa servono queste? Cioè solo per farci del male se un domani un pazzo gli viene voglia di attivarle, cioè quindi imparare la non violenza collettiva, l'amitezza, la prudenza, il principio di precauzione, tutte queste cose stupende che mettiamo nei libri e poi quando servono nessuno ne applica. quindi abbassare il potenziale umano di distruzione, perché poi qualcuno lo può usare e poi imparare che la democrazia e la pace sono beni fragili, sono delle piantine diciamo come nei nostri giardini che crescono accanto ai cactus e se li lasci un pochettino al sole senza acqua muoiono, cioè noi pensavamo che certe cose fossero il passato purtroppo sono il presente, cioè come con la reputazione, con la purezza, ci metti una vita per costruirli e ci metti un secondo per perderli, questo vale anche per la democrazia, la democrazia è un bene comune che è soggetto alla tragedia, cioè noi abbiamo troppo parlato male di politica in questi anni, abbiamo denigrato, chiunque si occupava di politica era come minimo un ladro, quindi la gente migliore ha lasciato la politica che si è impegnata nelle ONG, nel civile e abbiamo lasciato troppo poche persone a fare diplomazia internazionale, a dialogare per tenere in vita la pace e le istituzioni, abbiamo lasciato queste cose ai militari e generali che sono produttori di guerra per vocazione, fanno solo quello, dobbiamo riabitare la politica con persone in gamma, dobbiamo riportare a fare gli ambasciatori, migliori giovani, dobbiamo rimetterci a lavorare in questi luoghi che sono stati desertificati, li abbiamo abbandonati e sono arrivati gli sciacali e le iene, dobbiamo rifare alta politica, ricominciamo a fare scuole di formazione alla politica nelle parrocchie, nei movimenti, nelle diocesi, dopo 40 anni dalle vecchie scuole di politica della democrazia cristiana, che oggi c'è bisogno di una nuova stagione di politica, perché se non si lavora, se non c'è gente che lavora per la pace, ne abbiamo troppe che lavorano per la guerra e alla fine, come abbiamo visto e lo stiamo vedendo, prevalgono e non possiamo più permetterci, c'è una crisi del genere, una seconda crisi come questa, forse non la reggiamo, non la reggono i bambini che sono usciti da due anni di Covid e si ritrovano dentro una guerra, sono terrorizzati dalle immagini, non ci possiamo più permettere altre crisi così, dobbiamo veramente che queste due crisi una dopo l'altra siano veramente maestre di vita, vere, quindi sta a noi a raccogliere questo dolore immenso e farlo diventare bene comune. Luicino c'è una preghiera, una canzone, una frase che in qualche modo come una specie di mantra ti accompagna e ti aiuta in questi giorni così difficili? Ma io sono un grande cultore appassionato anche dei salmi, che li ho commentati scorso l'anno durante il Covid che interruppi una serie di economie su avvenire e cominciai a commentare i salmi, è un libro difficilissimo anche se è stupendo e c'è questo salmo 22 che è più citato in tutto il Nuovo Testamento che ha questo titolo, Dio mio mio perché mi ha abbandonato, che come sappiamo è il salmo utilizzato dagli evangelisti, dai sinottici, Marco, Matteo e Luca, per raccontare la passione di Cristo. Questo salmo è un salmo di un uomo che finisce senza volerlo, senza meritarlo, su una croce, ma sinceramente non era una croce come la intendiamo noi nell'Antico Testamento, finisce in una situazione di grande ingiustizia. Ma questo grido diventa l'inizio di una nuova speranza, questo Dio mio perché mi ha abbandonato, che è un grido che ogni giorno si ripete sulla terra, cioè non è l'ultimo grido, è il primo, perché se poi uno arriva fino in fondo a quel salmo, e io ho voluto nel commentare i salmi proprio immaginare, perché nel mondo ebraico un salmo si recitava a voce alta, si diceva a voce alta all'inizio e poi il resto si recitava spesso in silenzio. E io dicevo, voglio immaginare che Gesù abbia continuato in tutta la sua passione a recitare tutto il resto del salmo 22, che è molto bello, che finisce, come sappiamo, con una speranza. Eppure io so che tu mi salverai, eppure io so che tu mi libererai da questa. Ora, non bisogna avere un'immagine ingenua che Dio scende e schioda il figlio della croce, lo poteva fare se avesse voluto, ma non l'ha fatto. Quindi o uno dice Dio non c'è, o dice Dio non è come ce l'immaginiamo noi, perché qualsiasi padre sarebbe sceso a schiodare un figlio della croce. E comunque possiamo sempre finire il salmo 22 con le ultime parole, con le ultime frasi, ultimi versi che sono un dire. Bene, il male non è più forte del bene, che poi la grande tesi di Anne Arendt, un'altra erede di questo mondo, la banalità del male, cioè il male può essere devastante, ma è meno profondo del bene, perché c'è un bene, perché questo è il grande messaggio biblico, è una vita che è una cosa molto buona, cioè il bene più radicale del male. E quindi su questa base possiamo continuare a sperare. Quindi questo salmo che anch'io ripeto ogni tanto, Dio mi Dio mi Dio mi perché ci hai abbandonato, che il salmo dei disperati, immagino quante donne, quanti uomini oggi diranno questo in Ucraina. Però non ci fermiamo al titolo del salmo, arriviamo fino in fondo e cerchiamo una speranza non vana, una speranza vera. Grazie. Grazie a te, buon lavoro.